Buonasera a tutti e benvenuti. Parliamo ancora una volta di Marot. Mi piace farlo, la speranza è quella che il tener vivo l'argomento con fatti nuovi, mi auguro, possa comunque contribuire a dare uno scrollone, uno scossone, a far sì che questa vicenda perlomeno si risolva in qualche modo, visto che sono passati diversi anni. Ve la dico brutalmente proprio perché poi meglio di me saranno gli esperti tecnicamente a dimostrare la cosa, ma pare che vi sia un documento nuovo che verrà trasmesso al Tribunale del Mare di Hamburgo nel quale nel riepilogare i fatti accaduti a bordo dell'Enrica Lexi entra in scena, entrerebbe in scena perché dall'altra parte ovviamente si nega ma ci sono delle tracce scritte dove questo fatto comunque risulta essere avvenuto, entrerebbe in scena una petroliera greca, la Olympic Flair. Olympic Flair Enrica Lexi, petroliere sostanzialmente gemelle, stessa stazza, similissime e quindi facili anche ad una percezione confusa nel dover decidere quale possa essere l'una piuttosto che l'altra. Al di là di questo, la petroliera Olympic Flair denunciava lo stesso giorno un attacco da parte di due barconi con venti briganti a bordo al largo della costa della penisola di Coce, snodo petrolifero, in una zona dove non poteva essere. Non poteva essere perché secondo quelle che sono i rilievi, le relazioni, le carte nautiche e tutto quello che volete voi, che poi si dimostrerà meglio, ripeto, tecnicamente, non poteva essere lì perché lì c'era la Enrica Lexi. La Enrica Lexi, peraltro, era lì salvaguardata da natanti della Marina Militare Indiana. Vi erano due caccia torpediniere, due guardia costa e un elicottero della guardia costiera indiana. Ora, non ha senso e non è possibile che vi sia stato un attacco in quel momento all'Enrica Lexi quando la nave italiana era ben presidiata anche da natanti indiani. E allora, se lì viene segnalato un fatto, o nella zona viene segnalato un fatto da parte della petroliera greca, che peraltro la petroliera italiana e le navi a salvaguardia indiane nemmeno avevano visto perché se no sarebbero intervenute, ci si chiede se fosse l'incidente avvenuto con dei banditi, con dei barconi, con la morte accidentale di due pescatori del St. Anthony, non possa essere stata compiuta o la situazione non possa essersi avverata, ma con interlocutori diversi, ovvero banditi indiani da una parte, Olympic Flair dall'altra. Olympic Flair che, peraltro, aveva a bordo dei contractor, cioè dei mercenari privati, posti a tutela della salvaguardia della nave. Ora, non si tratta di dare... Che avevano sparato dei razzi, peraltro, e l'armatore della St. Anthony parlava di un rumore enorme sentito nell'imminenza di questi fatti di sangue. Ma a prescindere da questo, non si tratta di dare la colpa alla Grecia rispetto all'Italia di un fatto avvenuto o non avvenuto. Sta di fatto che la Grecia, o perlomeno la marina mercantile greca, ha negato questo fatto, ha negato un attacco pirata all'Olympic Flair, mentre invece il comandante, l'armatore dell'Olympic Flair, ha dichiarato alla marina militare italiana che l'attacco vera stato. Attacco, peraltro, conosciuto dalle autorità indiane, proprio perché nella relazione il comandante dell'Enrique Alexi dichiarava tutto questo, ma del tutto tralasciato o comunque non confermato, o comunque non portato a conoscenza, o comunque dimenticato, per ragioni ancora oscure. Buco nero di una settimana per i movimenti di questa petroliera greca nella zona del conflitto. Buco nero sul fatto che questo attacco possa essere avvenuto o non avvenuto, proprio perché la Grecia lo smentisce, l'India lo smentisce, l'armatore della petroliera lo conferma, e ci sono comunque dei rapporti dove questo incidente, questa aggressione è avvenuta, diventa veramente così importante forse approfondire anche questo aspetto, proprio perché ad Hamburgo l'Italia intende assolutamente fare chiarezza su questo punto, proprio per cercare di comprendere meglio la posizione delle due petroliere, chi ha subito l'aggressione e da parte di chi, chi ha reagito e chi non ha reagito, e quali possono essere comunque tutti in essi di causa, fra quanto è avvenuto a bordo dell'una e a bordo dell'altra petroliera, proprio perché le autorità indiane negano il fatto, negano addirittura di avere mai avuto degli incidenti o comunque delle situazioni di attacchi di pirateria nel periodo, quando in realtà dal 1 gennaio al 30 settembre ne sono avvenuti tanti di attacchi di predoni, di pirati in quella parte di mare. È un punto che mi auguro, per quanto complesso, tecnico, che andrà veramente riscontrato nel modo migliore, possa forse dare una mano e contribuire a fare maggiore chiarezza sui nostri marò. Uno di questi lo stiamo aspettando da sin troppo tempo. Grazie.